Milioni di fedeli hanno iniziato le celebrazioni per il Natale ortodosso in Russia e in altri paesi dove è stato conservato il calendario giuliano. Nella cattedrale del Cristo Salvatore di Mosca, la messa di mezzanotte è stata ufficiata dal patriarca Kirill alla presenza del primo ministro Dmitry Medvedev. Il presidente Putin ha invece assistito alla funzione religiosa nella nuova cattedrale di Sochi, dove il mese prossimo inizieranno le Olimpiadi Invernali. Messa di mezzanotte sotto le stelle a Kiev, capitale dell'Ucraina, dove migliaia di manifestanti pro-europei sono accampati dalla fine di novembre per protestare contro la decisione del governo di non firmare un trattato di associazione con l'Unione Europea. Temperature molto meno fredde a Betlemme, in Cisgiordania, dove il patriarca della chiesa greca ortodossa, Teofilo III, è stato accolto al suono delle cornamuse. La funzione è stata celebrata nella chiesa della Natività. Grazie a tutti.